Benvenuto all'ottorevole Dalvini! Ciao Matteo, di nuovo! Buona serata a tutti! Serviamo il capodoro! Non voglio occupare abusivamente i banchi, credo che lo aspetti, altrimenti vuole prendere i nostri posti, noi siamo qua. Allora mi metto dove c'è il gruppo, dove c'è il gruppo consigliante. Siamo qua da questa parte. Noi siamo qua? Sì, sì. Allora mettiamoci qua dove c'è il gruppo, basta, se dove c'è il gruppo. Antonio! Così almeno portiamo via il posto a nessuno. Che di questi tempi c'è una nostra pronta. Meglio intenderci nella sostanza e nella forma. Però io intanto volevo fare un applauso all'Ondrello Sardino. Bravo! Che ci hanno onorato oggi della loro presenza qui a Maletto. Noi ne siamo veramente grati e non facciamo discorsi di retorica perché già ci fermerebbe subito come fa spesso nei suoi dialoghi. Questo l'abbiamo appreso molto bene. Noi semplicemente la volevamo ringraziare perché intanto, come dire, è tornato dopo le elezioni. È stata, come dire, una situazione di parola, una persona abbastanza corretta e noi questo l'abbiamo apprezzato. E in più noi oggi l'abbiamo invitata qua perché, come sa, il momento della sagra è un momento in cui la comunità si mette in gioco per cercare di dare il meglio di sé, per cercare di portare un po' di respiro all'economia di questi paesi che, come tutti gli altri, risette della crisi. Ma cerchiamo di andare avanti. Il protagonista di questo successo. Buonasera, mi scusi, eh? Non sono elegantissimo, eh, perdonate. Eccolo qua. Noi si tremano, si referiamo a vostri. Buonasera. E' noi, non è noi. E' qui ti senti già. Ma, d'altronde, non è che la giacca... E' noi, non è tu, che è buonasera. L'abita, non fai male. No, ti saluto a casa, io sono lì, guarda, non è che ci faccio nel tempo. Andiamo. C'è il sindaco che aspetta. Certo. Buonasera. Arrivederci. Arrivederci. A tutta, faccio l'attenzione a vita. Eccoci. Grazie mille. Non stai a diritto. Grazie. Speriamo. Buonasera. 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 Buonasera a lei. La vedo sempre in telemessima. Dov'è? Eccolo qua. Signor sindaco. Signor sindaco. Scuso. No. Ci marcariamo. Sono io che mi scusate. La festa di paese e il sindaco deve essere H24 a disposizione. Anzi, mi scuso io per intromissione. Assolutamente. Voglio essere qua in punta di piedi. Ma è già bellissima la realtà che ho visto. Lei faccia come se noi non ci fossimo. No, no, io faccio come se voi ci fossimo. Ma ci avevi detto lo scambio polenta a fragole, è avvenuto o no? Io quando vado via prendo il cittino di fragole e lascio, portanto, riso e farina gialla per fare la polenta. Quindi facciamo il scambio eno-culturale. E poi se riusciamo sui temi, sulle due emergenze del paese, immigrazione e lavoro, a dare una mano non solo a gente del nord, ma a dare una mano anche alla Sicilia, che ha tutto e meriterebbe di tutto, sono solo contento. Buonasera, signora. Buonasera, signora. Promuoviamo la fragola di maletto di nuova. Una la mangiata. Una la mangiata. Ma è una, non è un sacco di gioia. Io l'ho preso per scherzare oggi, noi siamo... Ha visto, signora? Ha visto? Abbiamo tanti difetti, ma una parola è una parola. Ma questa te la devo dire. Ma dico come noi, terroni, lui viene a fare la sua maletto. Ha visto? No, per noi siciliani i maletto non sono fatti tutto. Alla Sicilia, lui, ma non viene a fare la sua maletto. Ma non deve essere, ma è un maletto, ma viene a maletto. Però devo provarne una, per vedere se... Posso? Sì, aspettate un'altra, c'è un'altra. Ci fanno un'altra? Chi è Matteo? Il clima. Il clima, la terra. Il clima, la terra. Il clima, il clima. Il clima, il clima, il clima. Il clima è la terra. Il clima, il clima è la terra. Ma anche quelle, l'acqua, erano bianchina. Sono indietro. No, è odore. Aspetta il clima... Prego, prego. Grazie mille, buona serata. Tanta gente che ci sta chiedendo di dare una mano da Ragusa, Catanissetta, Catania, Augusta, Pozzallo e quindi mi metto a disposizione ben volentieri. Ma questo qua dei coltiti, c'è il signore dei coltiti. Ma io ci ho provato 18.000 volte con la fragolina. Ma no, non posso andare a portare la fragolina aerea. E' comodo, è Milano maletto, è comodo. Vieni, vieni. Tutti insieme. Dobbiamo guardare il telefonino bianco? Sì. Alla salute. Guardate la borsa verde. Perfetto. Perfetto. Una balla mia, Giovanni me la fai. Vai Giovanni. Vai Giovanni. C'è qualche milanista qua. Io. Bravi, bravi, bravi. Mi uva per sempre. Questo è anche... Aspetta, mi copri la creatura. Mi interessa all'immigrazione, bloccare questa invasione, il lavoro, la disoccupazione, l'euro, la sanità, della legge dei parametri, adesso a poco restamente. Cos'è vero? Dillo che errore è la città del Salvini. Davide, un Salvini lo fai? Un mezzo. Ciao. Un mezzo Salvini. Un mezzo Salvini, se no iniziamo la sera è un mezzo aperitivo. Non mi riesco molto a muoverle. Non ci riusciremo da qui. Il mondo è dei folli. Il piacere che c'è lui.